Tommaso Coletta, allenatore del Vasto Girardi, 3-1 sul notarisco, punteggio che poteva essere anche più ampio, ampiamente riscattata la falsa partenza di Chieti, squadra che ha giocato in maniera spumeggiante in avanti, non dando mai punti di riferimento, ma in generale tutto il gruppo che è stato compatto e la politica dei giovani paga perché i nuovi sembrano già perfettamente inseriti. Sulla falsa partenza di Chieti non sono d'accordo, solo dal punto di vista del risultato sicuramente, perché i dati parlano chiaro. Anche a Chieti abbiamo dominato la partita, abbiamo cercato di farla perché questa è la nostra mentalità e oggi sono felicissimo del risultato e felicissimo dei nostri 70 minuti. Gli ultimi 20 non mi sono piaciuti perché poi se non ottimizzi quello che crei l'avversario non è mai morto, quindi il risultato doveva essere molto più ampio, con tutto il rispetto per la squadra. Non doveva essere più ampio, certo per mancargli di rispetto, però le partite vanno messe al sicuro, come abbiamo visto poi capita l'episodio e lì tremano le gambe perché ci vuole la tranquillità e il coraggio che forse a ragazzi giovani magari qualche volta manca e su questo bisogna crescere. Però non siamo una squadra che può gestire le partite, non gliel'ho mai chiesto, gli avevo chiesto di andare a pressare in avanti. Il secondo tempo è stato fatto a tratti ed è una cosa su cui lavoreremo perché io credo che gli avversari in quella situazione debbano stare il più lontano possibile dalla nostra area, non portarci all'inare. Un punto di forza di questa squadra che si è vista ampiamente è stata proprio la forza degli esterni d'attacco che sovende mettevano in difficoltà, gli esterni bassi loro con scambi rapidi, palloni messi in mezzo, quindi una squadra che se concretizzasse di più, come abbiamo detto, chiuderebbe le partite ancora prima. Sì, purtroppo è un peccato, diciamo che stanno crescendo tanto sotto il piano della lettura. Si lavora da 45 giorni, da 50 giorni dall'inizio del ritiro, quindi comunque ci sono tante cose che vanno migliorate, tante idee che pian piano affinano anche loro. Ripeto, sotto tanti punti di vista si migliora continuamente e sono felice. Gli esterni stanno capendo perché la lettura che va fatta, che è in base all'avversario, dipende, non è sempre la stessa. E quindi imparando a leggere con le qualità che hanno, perché comunque io credo che abbiamo giocatori ottimi, forti, perché io sono felicissimo dei giocatori che ho, quindi stiamo crescendo tanto.